Oh no, è veramente un extraction, ok? Non hai guardato il video di anteprima? Non c'era nessun video Madonna, ti stai prendendo una cazzo in incredibile? Non c'era nessun video Madonna, Karim, non hai... Ma come? E dove era la mia? Non lo so Ma scusa Che sboronata Tra l'altro ho fatto con l'Ariel 5, credo Era bellissimo Però ho toccato niente Ma... Puoi fare l'alieno, però? Eh sì, no, già quello mi turba Il fatto che tu possa scegliere se fare l'alieno, sai? Vuol dire che è PvP... PvE, tipo Eh, raidi allora Beh, sì, mi sta spiegando che dobbiamo prendere i soldi E ammazzare l'alieno E dov'è il raidi, scusami? A te non è partito il video? No? Gatto Io non lo so I mostri hanno paura della luce Ma fai occhio che i nemici ti vedono Ma i mostri non sono i nemici? No, i nemici sono altri giocatori come noi Che devono estrarre Ma sono i mostri? E poi c'è un giocatore che fa No, sono tutti umani che devono estrarre come Tarkov Poi però credo ci siano i mostri Ma secondo te il mostro è per forza un umano? C'è anche un NPC? Non l'ho capito Me l'ha chiesto adesso l'accesso alle reti Anche a me Ma come cazzo si muove? Madonna Flop, 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 flop È una mina? Credo sia più per i mostri È una mina È una mina Aspetta Get Eh non lo so A me sembra una mina Io li sparo Madonna Ma ha fatto danno Santo cielo Ha perso un pochino di danno Sì 30 mi ha tolto C'è una torretta credo lì C'è un laser che ti punta Gatto Una porca di una troia C'è scaricata la torcia Annaccio Eh infatti l'ho spenta Però va a tempo eh Andiamo Sì ho visto Hai sparato? Tu sei un criminale Eh sì mi stavo cambiando un'ultima ozione Vado al cesso Ma perché la luce deve essere dall'altra parte della stanza? Bello per adesso è il mio gioco preferito Allora ho trovato un coso della pressione La torretta! Mamma mia cari E sono morto Come gatto no? È un massacre È un extractor Questo è un casino Allora non sono morto morto Mi puoi restare però Mi sta rovinando la vita Sono nel bagno delle donne Se mi resti Ho visto sì Grazie Stavo lutando uno io Tre ore e mezza ci vuole Ok Porca tua Si mora? Ok grazie Madonna Sembra che mi sono cagato ad osso Posso soffrire male Aspetto che ripassa È in bagno Ma come si rompe quella torretta mo? Credo da dietro Oh no ma si muove! È certo Secondo te come ho ucciso Ecco perché Non sono così pirla Il ambiente è molto bello Ma è buio a merda Sì ma è immortale quel cesso lì Io non so Vai possiamo passare adesso Solo che le parti buio sono proprio buie Sta passando Sì ma la luce non può essere dall'altra parte della stanza Ma chi l'ha progettata sta cazzata Monster can sense your form of distance now Non senti correre? No Io sento correre Alla mia destra E allora fai occhio Grazie Sì lo sento Lo sento Ah sì Che paura Che paura Oh no c'è l'alieno Sparagli Dovedi? Perché puoi sparare? Chi l'ha visto? Ha fatto un radar Vabbè vabbè tranqui tranqui No no arriva arriva adesso Eh no perché ha paura della luce C'è una roba qua eh Ho chiuso A posto Easy win Hai sentito? Ha aperto la porta Karim Eccolo L'ho colpito con il mio potere del Beh puttana sua mamma mi ha fatto mal È morto però Ah a posto Vabbè ma era una pippa Vuol dire che non hanno tanta vita Manomale Io sono andando avanti eh Ah qua c'è un mostro che è morto Per la luce probabilmente Occhio c'è una mina lì eh Ah Stai attento che se ci sia fuori pure celentano è finita Ricordati di accendere le luci eh Che gli facciamo paura il mostro Oh qua c'è cura forse Ti devi spostare Karim Scusami Scusami Oh guarda 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 Ma mi fa la trasfusione Ma fighissimo Lo vedi tu da fuori? Sì Bellissimo Figo Lasciamelo un po' Secondo me siamo arrivati poco preparati A livello di munizie O almeno io Eh non sapevo quanto Io in questi giochi E quello è il mio problema Non so mai quanto portare Quanto prendere Eh perché se muori perdi tutto Esatto Sta arrivando il robottino Secondo te il battito cardiaco cosa serve? Forse per il respiro Che sei alto si sente Ah magari dobbiamo camminare stelto Veramente Puttana puttana che paura Cazzo Era il vento che ho toccato? Ma sei Sì Ma era No No Ma era fortissimo Forte Ragazzi ma era forte anche da voi Cioè non sono matto io Cioè non sono matto io L'altro po' mi Mi strozzo con la benedictive Sono cagato Dove sei andato? Sono qui Dov'è qui? Sono fuori dove ho rotto il vetro Ah Ecco qua Ok stiamo assieme Prova a scendere Vedi se è quello il suono Vai Pazzo Era un po' forte effettivamente Stai stelto Ah ok a posto Ok adesso c'è la luce Perfetto Con ste luci del cazzo tempo Tutto una merda Ma fai che c'è il robottino lì Che riba è il vero mostro Un altro robot Sì ma hanno tutti i coglioni Sti robot tutti in giro Stai tinto Ui 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 È diventato napoletano Che è successo? È passato? A chi nessuno è fesso A chi Non dicono a chi No Ca Dicono Ca nissunefess C'ero quasi dai Dicono a chi Era un po' spagnolo Mimmo no No Oglia mi ha massacrato di botte gatto Ma proprio mali E io sono andato in un ufficio Mi chiudo qua E sono per sempre qui dentro gatto Ciao Eh ho capito io però Io ho raccolto delle forbicine per le unghie qua in palestra Mi sto infilando in una botte Ah close door Ah forse i mostri passano da lì Sto lutando un pochino Solo che ho alimentare Non so se serve per estrarre La puttana di sua madre È proprio qua gatto Oh no Ha fatto un radar Qui c'è il mostro Porca troia Che paura Sono immobile Ma poi c'è pieno di suoni terrificanti Cazza Proprio quando mi sono morso Morso State zitti Ragazzi un piccolo sondaggio Secondo voi Se io vado in papautana Porca troia Oh Karim Vabbè ma mi ha No sono vivo Sono vivo No ok Mi ha devastato la vita Cazzo Che è successo Ah sono morto Drone Per aprire la mia porta Aspetta Karim Sono un drone Che ti vede No Sì Mi ha sputato Cos'è sentito E il drone mi ha sputato Cioè il drone Sei un mostro Ma non mi sparare Scemo Non sono io Ah no No Quindi non sei andrà Ora sia diventato un mostro No Cortocircuito Niente Ma siamo matti Ma che succede Eh non lo so Niente Ma non ho capito niente Il mostro mi ha disintegrato Io ero un piccolo drone Con una torcia Che ti poteva aiutare Ma è stato un Era un giocatore Comunque Sì Sì Il Sidley Ok Abbiamo perso soldi Eh certo Ma c'è altra gente qua Siamo in gruppo con Campound Babot Secondo me lui sa il fatto suo Ma speriamo Ma dai ho trovato un altro Oh Firehacks È meglio della mia Eh cazzo sì Però è lenta Andiamo con Che questo sa giocare Andiamo Andiamo Ma è giro Ma tu che sei tank Oh no c'è la chat vocale Gatto Non so rispondergli Eh smetta Non c'è solo la luce Oh Sento gente Can you hear me? Hello hello C'è uno c'è uno c'è uno Hello can you hear me? Cazzo gli spari Perché? Perché un pvp? Eh prego pvp Ma non è vero Siamo in squadra con lui Ma cosa c'entra? Noi siamo in squadra così Lui no Ma dove Vai Ma sei matto? Eh beh Sì è andato lui Forse qui si estrae Guarda Avessi capito una cosa Di quello che sta succedendo Ah è a squadre Ok Sì a squadre Sì Non è finito il maledetto Cosa Iiii Karim? Eh Una facehugger Tento Tessi è uno stronzo Cos'era? Cos'era? Una mina Ma non c'era quando siamo andati E il nostro compagno Aspetta gatto Eh ho capito Mi hai devastato la vita Occhio che c'era un facehugger L'ha abbracciato eh Cosa piangi? Cosa piangi? Ma no ecco Il compagno è morto Vabbè gli inculiamo tutto Eh Karim sento il facehugger Sì Ah vedi lui è diventato quel dronino lì Eh sì È quello che hai diventato tu Eh sì C'è l'alieno? Io vado via Io non ho stamina Perché qualcuno mi ha fatto esplodere Eh ho capito Torniamo Ma dentro dall'alieno? Mi che gli spacchiamo il culo No gatto C'ho il pompa Mina Dietro di noi È morto È morto Sono infinito Ho 5 di vita gatto Eh anche io Ca miseria Dove è finito? Ma cattolo e Karim sono morto Che è successo? La torretta di me Sono un drone Un'altra ce n'è un'altra Non lo so sono Aiuto Ma che cazzo Ma perché? Ma perché? L'altra domanda Non lo so sono un drone Aiuto Ma santo cielo Mi sento malissimo Ma ho perso 105 Cioè 10.000 monete Com'è possibile? Sì però non si può Non capire un cazzo Scusa È perché non c'è un tutorial Non c'è niente Loro dicono Hai giocato a Tarkov Perfetto Vieni Non c'entra nulla Ma ok Ci abbiamo uno bravo gatto Seguiamolo E noi che facciamo il flash Come due impecili Cosa cazzo è stato? No Vieni qui Non sei tu Sto parlando con l'altro Kamir 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 Samir Si è sentito? No io non ti ho sentito Sta arrivando la torrettina La porca troia Chi è? È la torretta Sempre che Una mina Vabbè ma è un incubo Ma perché ci sono le mine per terra Dai è proprio una merda sto gioco Ma avete giocato Tarkov Ma guarda bene Ma anche Tarkov comunque Non è che però Ma Tarkov non è così Non è che ci sono le mine E dei robot automatici Non è così drammatica no Ma le mine si possono disattivare Eccoci qua Viene di qua Sparole da lontano No ci siamo fatti male prima Beh da un po' più Mi vino Mi vino E' stato terribile Gatto il suono Sei vivo Gatto? Sei vivo? Ok Buono così In game sono vivo Dov'era la cura? Ho sentito proprio il suono Eccolo Guarda che è stato attaccato Vedi? No no Mi curo prima Poi guardiamo Era la versione sfigata Dell'alieno Di all humans must die Oh destroy all humans Scusa Io mi sto tutto da lontano No vieni C'è un uovo qua davanti Che dovrebbe essere quello Vedi? Ah li ha sparato Lui vedi che è pratico Ah questo robottino è rotto eh Quindi si possono rompere Eh Io gli ho sparato 20 colpi Prima non è servito a niente Di pistola Ho capito Quello che ho Gli sparo Che devo fare? Gatto Ma l'ha il cavo elettrico Adesso non mi hanno mai fatto male Ah ecco Vedi che hai acceso le luci E hai bruciato uno delle uova Perché probabilmente Beh facciamo i podcast Gatto Benvenuti a La moca Ecco qua Il podcast Che ti aliena Come come? Eh dobbiamo levarci ai coglioni E allora dai andiamo eh Torniamo indietro e staviamo per una volta Senza morire Se è possibile Così mi posso comprare dei pantaloni Di un colore diverso Anche se sono vestito sgargiato Chi è? C'è uno Ah no è con noi Sei sicuro? È con noi È con noi sì E sta taggando qualcosa tra l'altro Ah ok Andiamo Sì staviamo Siamo Vabbè Siamo la merda Gatto Allora volevo dire salve Buongiorno Gatto volevo fare il repi La gag Sentilo sentilo Ma chi è che mette una mina qui? Sentilo Per l'amor del signore Senti come piango Mi cura? No 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 Che fa Ah me l'ha data lui Ah grazie Buon rendere Buon uomo È arrivato l'ascensore Vai 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 Premo Beh dai è stato facile Ecco qua Perché c'è un time per l'estrazione Il ascensore non è immediato Oh non Ah funziona comunque Ok meno male Figo Cioè no però Beh abbiamo guadagnato i soldi Che abbiamo perso Proviamo a fare i mostri va Sì Se ce lo fa fare in squadra Perché non credo Ah no sì si può Guarda Puoi sacrificare le cose Ok Non si può fare niente C'è un tutorial muto Tu lo senti con l'audio? Certo che lo sento Io lo sento muto Dai ma perché c'è questo problema Con le cinematic Allora praticamente devi usare La visione speciale E mangiarti la roba Usare l'amp Per ammazzare Gli umani Ok All living things Hai scritto quello che vedevo Eh no certo Però lui lo diceva Con un tono molto impostato All living things Ok sono Alieno Ma che schifo Sì anch'io Che schifo Sarei bello tu Perché c'ho le mani lunghe Vedo i giocatori Gatto sono da me Eh pingamili Perché non so dove sei Grazie Le stai attaccando No sono morto Per la luce Però ne ho attaccato uno Che gli era esplosa La bomba Addosso E sono andato a attaccarlo Ma sei morto morto Sì ma fra 20 secondi Le spawno Ah ok Per fortuna Non riesco proprio a capire un cazzo Te lo giuro Ah devo far questo Adesso ho capito Come funziona Questa cazzata Ok Ti raggiungo così Magari andiamo in coppia Ah l'uovo Credo che ci aumenti la barra Sono morto Io sono morto In un secondo Io non so Sono morto Ma mi sa che ne ho ucciso uno Buon per te Io non ho capito niente E la luce Ho capito Però non c'era Eccoci Di gatto di qua Ah sei invisibile Ok ecco perché Stai giù Karim Che cosa cambia Non so farei meno umore Tanto è tutto buio Qua non vedo niente Possiamo fare un bordello cane Quando corri Con ste zampe Le uova comunque sono incredibili Fanno spuntare un facehugger Che non fa fare più niente Sono sotto di noi gatto Guarda Ah bravissimo E come ci andiamo Potete entrare i cunicoli Ne vedessi Ecco qua Sono feriti entrambi Se riusciamo ad andare giù Li ammassa Capissi come si va Senti come piangono Sti cretini E di qua Karim Di qua Arrivo Sono qua dietro Eccoli Occhio che è tutto illuminato però Aspettiamo che si spenga la luce Sì È qua da me gatto Cazzo Eh puttana Dove sei? Ma come ti ho preso? Eh vabbè Non l'ho ucciso Pinga E sono morto io Ah cazzo Ho massacrato due di botte Uno mi ha ucciso con un dildo E che dobbiamo fare? Sai che forse sono qua? Sì? Sento correre Ah ma ecco perché sono dall'altra parte Arrivo arrivo Facca Mi ho sburrato uno Ma sono alla luce Lo vedo sì Sono qui da me Vi faccio il giro Ok che c'è una luce fortissima da loro Eh ma stiamo a assemblare anche col botte Che comunque Ho sburrato Bravissimo Bravissimo Bella Ah è vero che ci sono i condotti anche in alto Cioè sto capendo di più il gioco da alieno che da umano Adesso anche Cioè adesso se andassi da umano capirei di più Capito? Minghe Dove cazzo sono finiti? È proprio qua È qui È qua lo vedo lo vedo lo vedo Sono in due Gli ho urlato ma non ho capito cosa è servito È andato di là Lo vedi? Sì 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 Ti ho sburrato È una torcia molto forte Eh la vedo Beh se la stanno giocando bene Non è male quello che sta succedendo Stai attento Gli ho sputato Gli ho sputato Sì ma io Cazzo Gli alieni l'altra volta due colpi Ci disintegravano Ma anche prima Mammina Mammina Mi stanno massacrando di botte Salta via Salta via Ma me l'hai messa tu la tavola lì? Eh sì ma non l'ho messa per te ovviamente Sei un deficiente Sei un bastardo Sei un cretino Se non sei buono non sei buono Smetti cambia gioco no? Ecco guarda me l'hai rotto Ecco qui Ecco qua Se entriamo entrambi Secondo me li massacriamo di botte Aspetta Allora Fammi mettere l'MP Dammi un attimo che si carica E gli apriamo il culo Ma dove sei tu? Perché io non ti vedo? Sono qua Perché sei cieco Sono dietro di te Qua per terra No non ti vedo Sei invisibile Dietro dietro? Non sono invisibile Sì sì però io non ti vedo Allora lancio l'MP Vai Uno è morto? Sono morti entrambi? Tutti e due Tutti e due Oh i campioni Che tatticone Beh si erano messi in un angolo Poveracci Eh poverini Stavano caccando addosso Ce n'è un altro lì Credo O sei tu questo? Sono dietro di te No vedo una tua immagine strana qua sopra Sai? Oh ti vedo in t-pose qua Aspetta ti mando una foto Ecco dove sei Ecco perché non mi vedevano più No dai L'abbiamo uccisi con un bug Eh sì Eh ma quindi come Cioè c'è altra gente immagino Sei in t-pose ma mezzo clippato nel Nelle cose Nelle Sistema di ventilazione Vediamo un po' Ma santi Dio Vabbè E quindi? Quindi niente Ma no ma c'è altra gente Cioè no credo ci siano altri giocatori ovviamente Eccoli qua infatti Pinga Ok L'ho lisciato Karim Ah c'è la luce accesa E come là Adesso Eh ma lui c'ha C'ha la luce sua Dove è andato? Ah merda Dove è andato? Mago? Ha chiamato l'ascensore Ma dov'è? Eccolo là No perché non attacca? Perché? No vabbè L'avevo sburrato e lo stavo per ammazzare Ma non attaccava Cliccavo ed era inutile Sotto la luce non attacca È possibile Che poi veramente due secondi Eh cazzo Puoi stare sotto la luce Eh si è bloccato non so Sì Anche a me forse sono fuggiti Buon per loro Sono fuggiti Arrivederci Vorrei dire bello ma mentirei Eh sì È molto bruttino sì Non mi ha dato proprio voglia di riavviarlo Anche se per sbaglio l'ho avviato una seconda volta adesso Ah ah Vabbè Buonanotte belli Ciao belli Buonanotte Ciao Che fa che fa Che usa pasticcia Non tirare Ma cosa serve C'è la luce Cosa serve Ti va bene un cazzo eh Attenzione qualcuno ha chiamato l'ascensore Ah L'ha detto has been called No Has been called Io ho capito che il marito aveva chiamato l'ascensore